Buongiorno, un sistema di conservazione nazionale per le fatture elettroniche ha senso perché è giusto supportare soprattutto le piccolissime imprese, i piccoli artigiani, i professionisti in questo adempimento. Ci sono molte micro imprese che fanno delle fatture ma hanno pochissime fatture, quindi perché aggravare queste piccolissime imprese facendogli pagare anche il servizio di conservazione? Quindi questo servizio è mirato soprattutto a questo target di imprese. È logico che un'impresa già più strutturata dovrà utilizzare un sistema di conservazione integrato con il proprio gestionale sia il sistema contabile che il gestionale documentale. Oltretutto i prossimi adempimenti riguardanti la digitalizzazione dei contratti pubblici impongono anche la gestione e la digitalizzazione dei documenti come ordine, diritti, documento unico di gara relativamente al codice dei contratti pubblici, quindi ci sono molti altri documenti che dovranno essere conservati e per i quali la pubblica amministrazione non prevede un servizio gratuito. Proprio per questo sicuramente il mercato della conservazione sarà sicuramente fiorente e forse in futuro più di adesso.